Buongiorno a tutti, niente, facevo questa storia per avvisare, per insomma dire che Nicole non è incinta la foto che avevo postata era una foto vecchia che avevamo fatto a Ibiza Buongiorno a tutti, no? Tu sai, sono il primo di storie e vi volevo dire una cosa Momi è incinta, voi lo sapete, la foto che ho messo è vecchia, però si, stava mangiando la pizza, no? Quindi come vi stavo dicendo, forse mi sono espresso male io, non ho scritto bene il post comunque ho letto tanti articoli, tante cose, niente, volevo avvisarvi questo Quindi come vi stavo dicendo, no, non mi sono espresso male a Momi è incinta e a Zennaglio la esce, Zinevra ho appena accato, Zinevra, no? Volevo avvisare di questo che è tutto vero, no? Comunque niente, se la gordita è incinta, non vi preoccupatevi, vi faccio sapere se, se sarà mai o quando sarà, non lo so, non si sa Oh, questo è quel cazzo che lo faccio e non metto sicuramente orecchiette stupide, no? Tu sai, se sarà mai, esatto, spazio, sarò, ma, se, bozzaro Come al solito all'Argentina si sente dalla voce e saluta a tutti, a largo e dita Mamita rica, ciao 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 Grazie a tutti